Ciao Swill Family! Marzo è appena cominciato e ovviamente quando inizia un nuovo mese, cosa c'è? Una nuova super collezione di Tiger! I'm losing my mind! Non ho il raffreddore fortunatamente, però mi sono ammalato! E allora per fare questo video mi sono impasticato di tipo tachiperina, sciroppi vari eccetera per essere bello pimpante e arzillo, ma per essere anche pimpante e arzillo per uscire, andare in città e fare dei super acquisti di Tiger! Ebbene sì perché è iniziato marzo, è iniziata la nuova collezione, non so se posso usare questo nome perché da Tiger è arrivata una super super collezione kawaii! Sì, adoro un sacco! È una collezione dedicata un po' al Giappone, diciamo che è dedicata al Giappone, serioso, quello tipo fatto di fiori, decorazioni eccetera, e poi al Giappone puccioso, kawaii, fantastico, bello! Ho preso un sacco di cosine super pucciose, super carine, super bellerrime, mi piacciono un sacco! Partiamo dal Depliam che praticamente è veramente quattro pagine, fortunatamente quattro pagine così c'è anche un po' di idea ambientalista, meno carta c'è meglio è! E come vedete, novità di marzo, dovrebbe essere diciamo un seguito del volantino di febbraio, quello di San Valentino barra carnevale, e sicuramente ci sarà un Depliam un pochettino più vasto quando inizierà proprio aprile, che c'è Pasqua, ci sono tantissime altre cose insomma da festeggiare! Allora, come vi dicevo, in mezzo c'è una sezione dedicata al Giappone serioso, insomma, sushi, bacchette, cose per il sake, rami decorativi col fior di pesco tipicamente giapponesi, poi ovviamente anche una sezione dedicata alla natura, perché il 21 marzo arriva la primavera, e di conseguenza bisogna fare un po' il pollice verde, che è dietro, e non vi spoilerò tanto, c'è una super super collezione, Kawaii, atturo, lo dicono loro stessi kawaii, quindi non mi sbaglio, perfetto, quindi direi di cominciare, direi di cominciare perché sono un sacco di cosine super pucciose, super bellissime, che mi hanno colpito il cuore e ho dovuto assolutamente comprarle, ho speso, che ho qua lo scontrino che mi è caduto in terra, 22 euro e 20, e adesso direi di cominciare a vederle, se mi sentite un po' rauco e l'influenza, perdonate! Ok, direi di cominciare con i nastri adesivi, perché mi stanno andando dappertutto, stanno rotolando ovunque, una volta esisteva il prendi due, paghi uno, cioè praticamente prendevi due nastri e pagavi un euro, invece hanno tolto questa offerta, adesso bisogna pagare un nastro e un nastro, ne ho presi due, ho preso questo qua, super carino, con i gelatini, con la faccina, guardate che carini, e questi qua sono i veri proprio vanilla swirl, insomma quelli tutti fatti tipo quelli del McDonald's, carinissimi, e poi ho preso questo da grande amante del sushi, guardate che carino anche questo, mi piace un sacco questo qua, con lo sfondo giallo. Poi, sempre per quanto riguarda i cartopazzi, mi sono comprato ovviamente da grande collezionatore di penne, matite, biro e mondo carcellerie, eccetera, 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 ho preso questa matita con la gomma, la matita è rosa, e adoro! E poi, guardate la gomma, c'è attaccato una scatola, e da dentro la scatola tipo esce questo, tipo mi sembra, cricetino, sì, è un cricetino, che esce tutto così, tipo giapponesino, e adoro un sacco, bellissima, ok, e poi la seconda, che dovrebbe essere sempre una matita, esatto, è questa, con praticamente lo stelo della matita, che sembra una canna di bambù, come vedete, adesso la tiro fuori, perché finalmente hanno fatto le aperture facilitate, ok, c'è la matita che sembra una canna di bambù, e poi voi sopra, che sarebbe un temperino alla fine, c'è questa faccina di panda stupenda, arrivo, guardate, e praticamente dietro è un temperino, io pensavo che tipo si attaccava così, tipo penna porta, tipo porta mattine, insomma così, invece no, è proprio il pandino, perché il panda mangia il bambù, che voi intanto che lo temperate, li date da mangiare, e guardate il particolare di questo pandino, pandina, perché è una femmina, con il fiocchetto tipo hello kitty, perfetto, poi andiamo avanti, ho preso questo, che sono veramente molto, ma molto curioso di scoprire che cos'è, come funziona, dovrebbe essere un tappo di bottiglia, tipo quelli portatili, con tipo il biberon, il beccuccio, per bere comunque graduato, guardate, a parte il packaging, che è fantastico, c'è, c'è tipo questo gattino, sembra quei gattini portafortuna, giappo, che voi, tipo, adesso ve lo vanno, però vi faccio vedere immediatamente come dovrebbe funzionare, poi, vabbè, lo proverò in separata sede, allora, questo qua è il tappo, sotto, come vedete, avete tipo, come un tappo delle bottiglie che voi dovete avvitare, una volta che l'avete avvitato, dovrebbe, tipo, aprirsi così, e, di fatti, c'è un beccuccio, tipo borraccia, di conseguenza, le bottiglie diventano, proprio, delle vere, proprio, borraccine, da portarvi in giro, chiudere con il suo tappo, così, la chiusura a scatto, insomma, potete rendere le vostre, San Benedetto, delle, ovviamente, bottiglie super kawaii by tiger, perfetto, poi, andiamo avanti, ho preso questi, che dovrebbero essere, tipo, dei tag, dove potete scrivere, su, tipo, non so, degli auguri, eccetera, sono delle cartoline d'augurio, tutte, ovviamente, con questi animaletti un po' kawaii, e c'era scritto adesive, cartoline adesive, a parte le bustine, che guardate, sono tutte super colorate, ci sono nell'azzurro, nel giallo e nel rosa, che sono bene o male i colori che hanno riservato questa collezione, e come vedete, guardate che carini, cioè, sono veramente bellissimi, e sono proprio delle cartoline di adesivo, non capisco, forse sono le buste adesive, cioè, guardate che carini, ci sono i connetti gelato, i donut, con la fattucina, poi ci sono gli hamburger, hamburger trees, poi, oh, i sushi, poi ci sono gli hot dog, ovviamente, anche loro con la faccina, andiamo avanti, eh, perché ce ne sono altri, oh, mio Dio, guarda che bello questo, poi c'è un altro sushi, questo qua io lo adoro, poi, perché poi, altri, eh, ce ne sono tantissimi, c'è questo qua, c'è sempre questo cricettino con il donut, e un altro cricettino, topolino, con la fragolina, guarda, c'è, ovviamente ci sono tantissimi, e, ehm, e poi ci sono altri tre cricettini, c'è tipo questo qua con i mano, la nocciolina, questo qua, così, in versione un po' simpatica, adoro, e questo qua, che è una cricettina, in versione un po' simpatica, bene, ok, andiamo avanti, poi, sempre dello stesso tema, con tutti questi cricettini, eccetera, donut, eccetera, ho preso anche la ghirlanda, ah, adesso che sto guardando il disegno, ha solo cricettini, un po' da abbellire qua la mia stanza, così un po' primaverile, un po' kawaii, bustina, io, dovete sapere che ho, tipo, una malattia, una follia per le bustine, mi riempirei di bustine, tipo, non so, queste qua le utilizzo per metterci dentro, non so, le medicine, le pastiglie, magari delle penne, se devo andare via in viaggio, i documenti, eccetera, le adoro, costava solo un euro, è di plastica, bella, insomma, mi sembra una bella plastica, però, quando le acquistate, dovete stare molto attenti, perché, tipo, l'apertura, si rompe facilmente, e poi, per le mie colazioni, super donut, super ciambellose, mi son preso, una tazza, a forma di ciambellona, di donut, tipo quello di Homer, con sulla glassa, rosa, con tutti gli zuccherini, insomma, mi voglio fare una foto così, io, da grande collezionatore, di tovaglioli di Tiger, non potevo farmi mancare, questi, con, sullo sfondo, tipo, del riso sparpagliato, sullo sfondo azzurro, e poi ci sono tutti i sushi, e poi veniamo, i tre pezzi, quelli top, di questa collezione, ho preso, questo porta documenti, porta matite, super pelucioso, cioè, ragazionalmente, è morbidissimo, e poi ha questi colori, pazzeschi, fighissimi, come capienza, ni, cioè, oddio, ma sì, ci sta dentro, non so, il cellulare, il caricabatterie, la macchina fotografica, eccetera, però è carino, cioè, veramente, poi per quello che costava, due o tre euro, l'unica roba che mi scoccia, purtroppo, è che la codina, perché, oddio, si è staccato tutto, ah, era così, proprio, cioè, si è staccato, insomma, c'era questo pezzo di peluche, in più, con dentro questo, un patrofono di cotone, e vabbè, pazienza, e teniamolo così, poi, le ultime due cose, siamo giunti al termine, ho preso questo, porta monete, porta oggetti, da borsa, bellissimo, oleografico, con la faccina, di questo gattino, super, super cute, con le orecchiette, anche questo, non è molto capiente, così, cioè, vabbè, sì, ci sta dentro un po' di cose, però io, da grande amante delle bustine, anche questo, non potevo lasciarlo lì, anche perché il suo prezzo, era molto, molto basso, e costava 1-2 euro, e l'ho portato a casa, guardate che bello, e infine, siccome queste cose, mi affascinano un sacco, ho preso un terrario, e in questo terrario, adesso lo guardiamo insieme, perché mi ispirano queste cose, un po' già app, un po' zen, c'è all'interno, una casettina, un casettone, questo non è una casettina, c'è questa casettina, non so come funziona, ah, va bene, c'è questa pianta, ok, guardate, pesantissima, perché è veramente pesantissima, e poi c'è, questa specie di pozzo, però, io credevo, che praticamente, all'interno, era un mini terrario, con già la sabbiolina, l'erbetta, eccetera, e noi dovevamo costruirlo, invece ci sono solo tipo le, cioè, ci sono le cose, per costruire il terrario, mi manca la ciutolina, e mi manca la sabbiolina, che sono in vendita da Tiger, però io non credevo, cioè, non pensavo che erano solo, gli accessori, c'era scritto terrario, italiano, accessori per terrari, forse da Tiger, dovrei consigliare di cambiare, tipo le etichette, e mettere le cose più specifiche, e vabbè, compreremo anche il terrario, quindi dovrò tradire ancora, le mie promesse, ed entrare la seconda volta, magari a metà mese, quando assortiscono di cose nuove, e fare un altro, super mega haul, by Tiger, e se tutte le cose che ho comprato, vi sono piaciute, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, mi scuso ancora per la mia voce, un po', e un po' di fiacca, perché veramente sono stanchissimo, adesso sta arrivando la febbre, me la sento, e insomma, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube, se ancora non l'avete fatto, e ovviamente, ricordatevi sempre, in questo momento, sta passando anche la macchina puliscistrale, perché oggi c'è stato carnevale, qua al mio paese, e di conseguenza, ci sono corriando lì ovunque, e mi soffoco, vi aspetto anche su tutti i miei social network, la mia pagina Instagram, il mio profilo TikTok, e la mia fanpage di Facebook, io per adesso vi mando, un super bacio, kawaii a tutti, e noi ci vediamo domani, con un altro, e fantastico, video!